E' la Via Lombarda alla Libertà, un programma per portare alla riapertura delle attività a partire dal prossimo 4 maggio. In altre parole, stiamo progettando la nuova normalità nel segno delle 4D. Distanza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione con smart working obbligatorio per chi può farlo. E' diagnosi, grazie alla ricerca del San Matteo di Parigi. Non solo. Nei prossimi giorni saremo anche in grado di garantire i primi assegni della Cassa Integrazione per un numero di cittadini fino ad un milione. Abbiamo 80 milioni da distribuire ai nostri medici e agli infermieri che tanto bene hanno operato nei momenti della crisi. E' un piano per le piccole e medie imprese capace di mobilitare risorse fino a un miliardo di euro. Nei prossimi giorni saremo in grado di fornire maggiori dettagli. La Lombardia parla con i fatti.